La città ha bisogno di un sindaco barlettano che sappia cioè interpretare i bisogni della comunità. Punta sul senso di appartenenza al campanile, il candidato alla carica di primo cittadino nelle prossime amministrative del 10 giugno, il dottor Cosimo Cannito, a capo di una coalizione composta da 11 liste rigorosamente civiche. I sindaci sono stati nominati da Bari, da Roma, da Biceglie, forse anche da Canosa e ora si stava tentando anche da Andria. Per cui rivendichiamo il primato della barlettanità nella scelta del sindaco e ora è ovvio che il sindaco debba essere l'espressione della barlettanità, quindi un sindaco di Barletta. Riferimento a chi in particolare? A cinque anni fa quando Cascella fu imposto da altri, da gerarchie superiori alla politica locale. Sostengono Cannito, buona politica, scelta popolare, lealtà e progresso, prima i cittadini, progetto Barletta, Cannito sindaco, Barletta attiva, insieme con Barletta, Noi per Barletta, Forza Barletta, iniziativa democratica. Sulla scheda elettorale dunque non figurerà nessun simbolo di partito. Non mancheranno però nomi di rappresentanti di diversi schieramenti politici, molti dei quali presenti già nei giardini di Viale Giannone per la presentazione. La sua coalizione? La mia coalizione è una coalizione di liste civiche, accomunate dal desiderio di fare soltanto i beni della città e quindi di uscire dalla logica dei partiti e dalla logica degli schieramenti ideologici. A che elettorato si rivolge, dottor Cannito? A tutti i barlettani, perché il mio partito si chiama Barletta. Le priorità per Barletta? Come ho detto, intanto recuperare il primato della politica sulla dirigenza amministrativa, perché la dirigenza amministrativa ha rappresentato un freno allo sviluppo della città. Poi dobbiamo rivedere un po' la strategia dei rifiuti, il problema ambientale è al primo posto nella nostra coalizione e poi creare le opportunità di occupazione, di lavoro e altre opportunità riferite soprattutto al welfare. Grazie a tutti.